L'amore, il responsabile provinciale di Libera, Libera arriva a Ischia, ma vogliamo spiegare ai nostri telespettatori che cos'è Libera, qual è l'impegno di Libera da tanti anni? Libera proprio quest'anno ha compiuto 20 anni di attività, nasce nel 95, un poco dopo le grandi stragi dei giudici in Sicilia e nasce con l'intento, che viene scritto stesso nel nome, associazioni nome e numeri contro le mafie. Poi si aggiunge in questo periodo anche contro la corruzione, che è uno dei mali che permette alle mafie di poter toglierci molte risorse per quanto riguarda il futuro di questo paese. Nasce su due parole, impegno e memoria. L'impegno è quello quotidiano, affinché ci possa essere la legalità coniugata tramite la giustizia e quindi la possibilità di accedere ai diritti e la memoria, affinché le vittime innocenti delle mafie non siano dimenticate e che questo loro esempio possa essere da monito, affinché non si credino le condizioni per poter piangere altri molti. Filomena Sogliuzzo, la referente di Libera sull'isola d'Ischia. Oggi Libera sbarca sulla nostra isola, una giornata importante per la legalità e per affermare la legalità anche sulla nostra isola, dove a volte sembra non ce ne sia bisogno, ma in realtà l'illegalità è dilagante. Sì, sicuramente, perché per illegalità mafia o camorra non si intende soltanto un comportamento criminale esplicito, quale può essere un'aggressione fisica. Si intende soprattutto ciò che lo sostiene, cioè una mentalità dell'appartenenza, un clientelismo molto spinto, un'incapacità di sostenere nella legalità i propri diritti. E dunque a Ischia c'era veramente bisogno di un presidio di Libera. Oggi è un giorno importante. Sono davvero contento per la nascita di questo presidio, perché conosco l'associazione, conosco Don Luigi Ciotti e davvero questa è un'associazione tra le più significative che abbiamo qui in Italia. D'altronde ha avuto anche riconoscimenti a livello nazionale e internazionale proprio per il lavoro educativo, culturale, che compie nella lotta contro le mafie, tutte le mafie contro ogni forma di ingiustizia e illegalità. Siamo tra i soci fondori del presidio di Libera a Ischia. Abbiamo aderito perché crediamo che sia una, non solo una bella iniziativa, sarebbe un po' riduttivo, ma è un'iniziativa che fa bene all'isola, nel senso che Ischia è un'isola apparentemente felice, che non subisce la pressione, diciamo, dalla delinquenza organizzata in maniera così evidente come nei territori della città di Napoli o della provincia, ma che ha però forti elementi di illegalità diffusa. Intervenire su questo credo sia importante anche per la scuola.